Approvato in Consiglio Comunale a Vittorio il regolamento sulla rottamazione del ruolo delle ingiunzioni fiscali dei tributi locali. Per l'assessore Andrea La Rosa, che ha espresso soddisfazione per questa approvazione, si parla di un altro importante risultato che porta alla firma di questa amministrazione. Lo scorso febbraio, come si ricorderà, dice La Rosa, la Giunta ha votato l'atto e l'altruire il Consiglio lo ha approvato all'unanimità. Non posso dunque ritenermi soddisfatto, nonostante le sconclusionate critiche dell'opposizione che alla fine ha votato l'atto. Il regolamento quindi consente il pagamento senza sanzione dei ruoli giacenti presso il concessione della riscossione delle ingiunzioni fiscali riguardanti l'arco temporale compreso tra il 2000 e il 16 ottobre 2017, domanda che può essere presentata il 15 maggio prossimo sull'apposito modulo scaricabile a partire domani al sito interne delle Comune per le nuove stanze. I pagamenti relativi alla rottamazione approvata in Consiglio devono essere effettuati entro il termine ultimo del 30 settembre 2018, mentre per le vecchie stanze la scadenza dei pagamenti è fissata al 31 dicembre di quest'anno. Le commenti a reazioni, quella del Movimento 5 Stelle, dette in parole semplici, dicono i grillini, il regolamento concederà una ratizzazione di circa 4-5 rate a coloro che aderiranno sin da ora, da maggio 2017 a settembre. Se invece il regolamento fosse arrivato in Consiglio a novembre, rimarcono ancora i grillini, i cittadini avrebbero avuto sicuramente la possibilità di pagare in almeno 10 rate. Poi c'è Giuseppe Nicastro dell'EPD, dice, l'ennesima pernacchia ai cittadini, al peggio non c'è mai fine, spese quando ci sono le brillanti, tra virgolette, idee messe in atto dall'attuale amministrazione comunale in tema di controllo sui tributi. Dobbiamo prendere atto, dice ancora Nicastro, che la città è vittima dell'ennesima, presa per i fondelli. In sostanza il condone inizierà fa qualche settimana e terminerà a settembre, quindi i cittadini non solo dovranno affrettarsi a presentare le domande, ma saranno costretti a pagare i propri debiti solo ed esclusivamente con 4 misere a rate.